Oggi video sullo spacchettamento del pacco di campagna 2. Questo però è un corriere espresso per cui me ne è arrivata solo una parte dei prodotti e poi il termaggio riceverò l'altro pacco con tantissime cose. Bene, iniziamo e vediamo cosa c'è. Apriamo. Non lo... ecco qua. Ah, guarda! Buon compleanno! Il 9 maggio è il mio compleanno. Che carine, bellissimo. Poi mi è arrivato il catalogo 5. Che bello, non vedevo l'ora. Poi, borsine Avon. Supplemento Outlet esclusivo al catalogo 3. Anteprima di campagna 5 da acquistare in campagna 3. Poi, mi è arrivato il beauty, borsino, ci va dentro i trucchi da borsetta. Che ho vinto vendendo i Perfect Kiss nella campagna precedente. Poi, dei campioncini dei sieri dell'Ultimate 7S. Ce n'è un pochino. Poi, ho ordinato delle birre dell'Avo. Poi, un pennello viso, mi è arrivato, per una cliente. Un rossetto Matte Kiss, che è di quelli matte, opachi. Questo colore. Poi, mi è arrivato. Ho ordinato, per me da provare, l'Avo Magix, il fondotinta Kashmir. Ed, in tonalità, Soft Honey, era in offerta. Poi, mi hanno ordinato un set Platinum, per fare un regalo di compleanno. E c'è la crema da giorno. La crema da notte. Il detergente. E poi, il contorno occhi non mi è arrivato, perché me lo mandano la prossima campagna. Poi, mi hanno ordinato un eyeliner Super Shock, in tonalità still, rosa. E mi sono arrivati dei blocchetti ordine. Due. La sto a amare, perché ho ordinato due solari. Eccola qui, quella con i fiori. Poi, ho ordinato questa bellissima borsa, lucida, perché devo mettere dentro i prodotti per il regalo. Poi, ho ordinato il tester degli smalti. E qua c'è la fattura. Niente, questo era tutto il pacco espresso, perché dovevo mandare una signora per fare un regalo di compleanno. Poi, fra una settimana, mi arriveranno tantissimi pacchi con molti prodotti, non vedo l'ora. E ci vediamo col prossimo video. Ciao!